Umbria Rati, Umbria Rati, News, Music and Reflections. 8, 4, 3, 2, 1... You next? No, set. Ehi. Voi? E' un'Italia? E' un'Italia? E' un'Italia? E' un'Italia? Porto tanta pace, non solo nella nazione, nell'Ucraina, ma in tutto il mondo. Il mondo è assetato di pace. Il mondo ha bisogno di questo bene che viene soltanto da Dio. La pace scorca soltanto dal cuore del risolto. E noi stasera vogliamo invogare questa pace per la vostra nazione, per l'Italia e per il mondo di Dio. Damani ero a Roma, nella congregazione dei Vescovi. Ho visto che il Santo Padre arrivava, poi è ripartito, perché lavoriamo praticamente nello stesso palazzo. Ecco, un pensiero in questo momento è un ricordo particolare al nostro Santo Padre che ha questo compito gravissimo della comunione, dell'unità su tutta la Chiesa. La ringrazio anche del dono particolare che lei ha voluto fare. Questa Madonna della tenerenza mi riempie di gioia. Cara Bianchitudine, il nostro ministero talvolta è arduo e difficile e anche duro. Abbiamo bisogno della carezza del Signore e della tenerezza della Madonna. E lei ha voluto cogliere anche questa esigenza profonda nel nostro cuore. Grazie che Dio benedica per sempre la sua missione e Dio benedica il Signore. Avetevi l'occhio di qui molto famosa per le sue ceramiche ancora fatte con uno stile e la sua Madonna della tenerenza che accosta la sua guancia e la faccia del piccolo Gesù e la Madonna della grazia sia veramente per noi protezione con sicurezza e grazie per il Vida della nostra vita. Bene. I pizzi romali che sono così brave se tu peruggia colinio termi o rubio e grazie a tutti. Il Vida Grazie a tutti.